Buona la prima con il Real Agroversa, ma buona dovrà essere anche la seconda di campionato. Domani pomeriggio infatti alle 15 al San Ciro il Casarano in trasferta affronterà il Portici, compagine che all'esordio è stata battuta 3-2 al Fittipaldi di Francavilla in Sinni. Un motivo in più dunque per i rossazzurri per rimanere sul pezzo e tornare in Salento con un successo ben stretto tra le mani. Vincenzo Feola non avrà ancora a disposizione Versienti, Feola e Lobby Anize, dei tre e solo il primo ad avere i tempi di recupero più brevi. Il tecnico invece spera di recuperare il centravanti Ciro Favetta, che dopo un duro colpo ricevuto nel primo turno di Coppa Italia con il Carpi è rimasto precauzionalmente a riposo sia in campionato con il Real Aversa che tre giorni fa con il Pordenone sempre in Coppa. Dunque nel 4-3-3 per l'attacco nel ruolo di punta potrebbe essere scelto l'ultimo arrivato Bedrinello Owasni che ai fianchi avrebbe Rodriguez e Mincica. Non è escluso però che, preferendo non dare punti di riferimento, si escluda Owasni per far posto uno tra Sansone e Negro. In porta è ballottaggio a tre, ma probabilmente Guido potrebbe spuntarla. Davanti a lui la linea difensiva dovrebbe spettare a Longhi, Mattera, Benvenga e Pedicone, mentre sulla mediana dovrebbero agire Tascone, Atteo e Bruno.